Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Sarà un weekend all'insegna dello sport in città, non soltanto per il doppio appuntamento con la Formula E in programma domani e domenica all'Eur, ma anche per l'Appia Run, la manifestazione podistica giunta alla sua ventitresima edizione in programma domenica mattina in centro. Previste una gara competitiva di 13 km ed una amatoriale di 4. Le prime chiusure al traffico scatteranno già alle 7 di domenica mattina sul Viale delle Terme di Caracalla. Il percorso della manifestazione interesserà Via di Porta San Sebastiano, Lappia Antica, Lappia Pignatelli, Via della Caffarella, Via di Porta Ardeatina, Via Cilicia, Viale Marco Polo, Via Guerrieri, Viale Giotto e Via Baccelli. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, durante l'evento saranno deviate su percorsi alternativi 10 linee di bus. L'elenco è su romamobilità.it.